Buongiorno ragazzi, ecco un altro breve video sui nostri bachi. Stamattina è nata un'altra farfalla, ci provano gusto a nascere durante la notte così le trovi al mattino. Eccola là, non so se la vedete, là, eccola. Quella che è nata ieri, che è uscita da questo bozzolo, eccolo qua, vedete, con il buco. Si è attaccata adesso qui a questo rametto, eccola qua. Vediamo se si muovono un po', no, perché altrimenti sembrerebbero morte. Ecco, l'altra invece è uscita da questo, adesso provo a spostarlo, c'è ancora qualche filo, vedete che è, ecco adesso l'abbiamo staccata. Qui, ecco, vedete quest'altro buco da cui è nata quest'altra farfalla. Allora, vedete che non interagiscono tra di loro, sono, o se ne stanno un po' per conto loro. E questo mi fa capire che sono dello stesso sesso. Se fossero un maschio o una femmina, cercherebbero già di accoppiarsi. Invece il fatto che se ne stiano ognuna per conto proprio, o sono entrambe femmine o sono entrambi maschi. Ora, non li so distinguere, qualcuno dice che il maschio è un po' più piccolo, la femmina è un po' più grande. Però dal punto di vista dell'aspetto generale, insomma, è difficile poterli distinguere. Certo poi si capirà dal momento in cui depositeranno le uova. Ovviamente la femmina è quella che deposita le uova. Ecco qua, adesso aspettiamo che nascano gli altri. Questo bozzolo deve ancora far uscire la sua farfalla. Anche questi due che ci sono qua. Anche questo, quello e questo che era uno dei primi. Questo nell'angolino qui. Vediamo che cosa succede. Alla prossima! Ciao!